forme vere e proprie di parmigiano reggiano che sono state autografate dai componenti della mitica band fondata da augusto da olio e beppe carletti raggiunti 24 mesi di stagionatura gli esemplari del celebre formaggio emiliano saranno messi all'asta per beneficenza il ricavato dell'iniziativa sarà donato al centro oncologico ed ematologico di reggio il core una donazione a cui si unisce la somma raccolta grazie a tutti coloro che hanno partecipato al pranzo alla casa del tibet di bottigno organizzato in onore di questa singolare iniziativa credo che costi veramente poco essere solidali no basta averlo dentro nel cuore e delle volte anche una sola presenza per aiutare il grade che è importantissimo per cui tutto questo viene fatto in funzione loro è un orgoglio anche questo reggiano di avere una una struttura come il grade che pensa tante persone che purtroppo hanno bisogno l'iniziativa rappresenta una delle numerose forme di sostegno al progetto grade no limits avviato a favore della ricerca contro i tumori dalla grade onlus oggi noi abbiamo ricevuto una grande donazione dai nomadi 10.000 euro che serviranno per il nostro progetto grade no limits un milione di euro per la ricerca sarà un progetto che si propone di l'obiettivo di raccogliere un milione di euro per la ricerca verrà declinato i sei dottorati di ricerca saranno sei nuovi medici che lavoreranno nei nostri laboratori di ricerca in più acquisteremo uno strumento che si chiama digital spatial profiling che si prefigge questo strumento di fare delle analisi più approfondite nelle cellule tumorali in modo di avere delle cure sempre più personalizzate per i nostri pazienti sono un bimbo sono con l'educazione